Io non ho cambiato di molto la mia vita, devo dirle la verità. Faccio le cose che faccio normalmente, mi lavo le mani, non frequento luoghi sovraffollati ma non li frequentavo neanche prima. Siamo tutti ottimisti. C'è voglia di tornare alla normalità. Sì, sarebbe anche ora. Ci credo, è ora che ci si dia una mossa perché le metropolitane sono ancora vuote. C'è gente al mercato, buon segno. Sì, sì. Infatti io sono riuscita anche con la bambina. Io non ho paura. Infatti come ricci tu, la gente sta cominciando a riaffluire, tutto sta tornando diciamo alla normalità. Ma si spera, soprattutto si spera perché c'è stata veramente tanta paura e panico tra la gente. Si spera che adesso si rientra. Milano deve ritornare quella che era.